Ma stasera il telegiornale partirà con una figura che si staglia già da tempo all'orizzonte della politica internazionale, Putin. Perché? Perché il segretario della Nato, Stoltenberg, in visita a Roma peraltro, ha rivelato quello che non sapevamo, e cioè che 140 soldati italiani parteciperanno l'anno prossimo in Lettonia a esercitazioni che sono evidentemente in funzione antirussa. Bisogna vedere che cosa saranno, come saranno queste esercitazioni, ma certo la protesta politica è stata molto forte. Sto per perdere la voce, quindi speriamo che vada bene. Una protesta che è andata dai 5 Stelle alla Lega, non penso che ce la faccio, quindi conviene che andiamo con la pubblicità, 30 secondi e i titoli.